Ciao a tutti, sono Tainati, benvenuti su un altro video. Oggi parliamo di Bigram, Bigram ha pubblicato un video sulla storia di sua pagina Instagram dove lui ha detto che qualcuno sta dicendo lui di ritirarsi, qualcuno sta quasi obbligando lui di ritirare. Infatti dopo questo video vi farò vedere anche il video di Bigram dove lui ha detto questo cosa solo è in inglese. Quindi la prima parte vi spiego cosa ha detto Bigram e cosa è successo in questo video. Praticamente Bigram sta dicendo che qualcuno sta dicendo lui di ritirare. Io sono andato su altre pagine a capire chi è questa persona però mi sa che è Bob Cicarito. Chi non conosce Bob Cicarito? Bob Cicarito è il conduttore di Mr. Olympia e anche Arnold Classic. Anche le gare grande di Body Beauty e lui ha fatto un podcast con Dennis James e altre due persone dove lui ha parlato molto di Bigram dicendo che secondo lui lui non vede che Bigram riesce a vincere un altro Mr. Olympia e questa cosa di sicuro ha dato un po' fastidio a Bigram. Anche lui ha detto che secondo lui Bigram deve prendere almeno un anno a parte per guarire anche per migliorare i suoi problemi che Bigram ha e anche ha detto che il Body Beauty si vede la loro migliore forma quando hanno 30 anni fino ai 40 anni quindi diciamo che Bigram ha già 38 anni se Bigram si prende un anno o due anni a parte senza guarigliare quindi quando torna è quasi alla fine diciamo che Bigram anche con l'età non è molto giovane secondo Bigram questa cosa è stata una cosa che non si dice a un atleta quindi Bigram ha risposto che in 10 anni che lui gareggia lui non ha mai visto una roba di genere che fanno sempre parlando di lui di ritirare e dicendo le cose cattive sul suo confronte anche lui ha detto che ci sono alcuni bodybuilder che non gareggia da anni e nessuno dice niente allora di ritirare o di smettere di fare il bodybuilding e lui sta facendo il bodybuilding perché lui ha detto che era un prodotto che ha detto un bodybuilding I think I respected everyone from the last 10 years when I made this game and in the end I didn't hear about this advice that he came to anybody before. I don't know why, I don't know for any reason, but I think I did it all my life. I think last show I did my best and I come in the best conversion for me. I just need to say that because I believe in myself and I think I did well. And in the end I don't know why this advice came. In the end I respect everyone, but I need to say something. I did this sport because I love it. And if somebody you don't like to compete, why you don't give this advice to some people before? I don't know why, but anyway, I would stay loved everyone. Because it's my personal place. And I never changed to... Hey guys, I need to talk about something today. I heard somebody, he need me to be retired from the bodybuilding or need me to stop doing any show anymore. I don't know this advice for what. I think I did well all these years. I think I respected everyone from the last 10 years when I'm doing this game. And in the end I don't hear about this advice that he came to anybody before. I don't know why, I don't know for any reason, but I think I did well all my life. I think the last show I did my best and I come in the best version for me. I just need to say that because already I believe in myself and I think I did well. And in the end I don't know why this advice came just for me. In the end I respect everyone, but I need to say something. I did this sport because I love it. And if somebody don't like me to compete, why you don't give this advice for some people before? I don't know why, but anyway, I will stay loved everyone because it's my personality like this. And I never change to nobody else because I'm always said that way, only the way to have a nice life, to love the people and respect everyone. Thank you. Thank you.